torna a crescere il mercato immobiliare o almeno così sembrerebbe dalla lettura di certi quotidiani ma è veramente così come dobbiamo leggere questi articoli che vengono riportati talvolta dai media lo scopriremo insieme nei prossimi minuti bentornato su Affari Miei, io sono Davide Marciano e subito dopo la sigla vedremo se veramente il mercato immobiliare sta tornando agli antichi fasti e soprattutto ci faremo due conti cioè peseremo quello che leggiamo sui quotidiani alla luce della realtà eccoci qui siamo sulla stampa ho letto quest'articolo dell'edizione di Torino qualche giorno fa e ho detto devo fare assolutamente un video perché voglio commentarlo insieme agli amici di Affari Miei cosa leggiamo dal titolo? torna a crescere il mercato immobiliare a Torino in centro superati i valori del 2008 leggiamo ancora aumenta il volume delle compravendite sfiorato il record di due anni fa in via Cavour quasi 7000 euro al metro quadro continuiamo a leggere e come vediamo prezzi di vendita e canoni di affitto in risalita con il centro storico di Torino che vola perfino sopra i valori del 2008 e se l'anno scorso il mercato immobiliare cittadino ha visto una frenata delle compravendite il 2024 prospetta un robusto rilancio tanto da far stimare una crescita del 5% nelle transazioni è un fatturato attestato poco sopra i 3,7 miliardi di euro apro e chiudo a parentesi tra il 24 maggio che è la data di quest'articolo e la data in cui sto registrando è stato pubblicato il rapporto trimestrale dell'Agenzia delle Entrate relativo appunto ai primi tre mesi del 2024 e Torino è la seconda città italiana nella speciale classifica di quelle che hanno fatto peggio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente probabilmente voglio sperare che quest'articolo sia stato scritto prima della pubblicazione di quel rapporto di cui non ricordo la data io comunque l'ho letto dopo però fondamentalmente a maggio la stampa si precipitava a fare questa analisi in realtà sembrerebbe che le cose non vadano proprio così ma prendiamole per buone la fotografia arriva dal forum dell'abitare di Milano io ero organizzato da scenari immobiliari e abitare una panoramica che restituisce la botta di tassi di interesse di rialzo ma che dà anche una visione di più ampio respiro sia perché considera la crisi del mattone di oltre un decennio fa sia per le stime dell'anno in corso infatti l'offerta delle unità disponibili resta pressoché stabile rispetto al 2023 meno 200 abitazioni pari all'1% delle oltre 15.000 disponibili un segno negativo che persiste da 4 anni a questa parte ma più attenuato dice che gli scambi salgono l'articolo quindi continuando a legge ci dice che gli scambi salgono superano i numeri del 2021 riavvicinandosi al record del 2022 che aveva scavallato quota 14.000 andiamo avanti ci dice altri dati positivi poi parla dei canoni di locazione tutto in ascesa quest'anno le zone centrali adesso costano sui 5.230 euro al metro quadro in aumento di 230 euro rispetto all'anno scorso così come quelle semicentrali e periferiche in cima alla classifica delle aree torinesi che da un anno a questa parte hanno sentito di più gli effetti ci sono Corso Francia e San Donato vabbè che sono alcune vie di Torino in realtà questo articolo è scritto un po' male perché adesso ha tratto in inganno anche me leggendolo perché parla di canoni di locazione media e poi parla di questi che sono prezzi di vendita al metro quadro però sarà un refuso quello che è interessante è che poi è un po' il tema di copertina nell'ottica di 10 anni invece alla seconda classificata del biene 2022-23 si aggiungono Piazza Carlo Felice e Via Cavorro in questi ultimi due anni si osservano le tariffe più alte da un minimo di 2.850 euro al metro quadro a un massimo fino a 6.750 euro non cifre accessibili a chiunque comunque poi intervistano insomma una persona che parla eccetera il tema di copertina di quest'articolo qual è fondamentalmente? che in centro si sfiorano 7.000 euro al metro quadro che per quelli che sono i prezzi di Torino sono tanti soldi magari qualcuno guarderà da Milano e dirà non è niente di speciale ma vi assicuro abitando a Torino che 7.000 euro al metro quadro è tanta roba ma non concentriamoci tanto sui 7.000 euro al metro quadro né tanto meno su quest'articolo che è scritto in maniera un po' discutibile ma piuttosto andiamo a vedere i dati cioè andiamo a vedere la realtà cosa ci dice quest'articolo? ci dice che appunto abbiamo superato i valori del 2008 e qualcuno potrebbe dire ah che bello abbiamo recuperato le cose stanno andando bene che è un po' poi l'obiettivo di chi ha scritto quest'articolo questo è un articolo che è stato scritto perché ovviamente si fa riferimento a un evento che si è tenuto a Milano organizzato da scenari immobiliari e abitare quello che sono due insomma realtà che gravitano nell'ambito dell'immobiliare quindi è un po' un resoconto di un evento saranno stati pubblicati dei dati da addetti ai lavori che certificano tutto questo ma cosa c'è che non va in questo articolo? c'è che si parla di superati i valori del 2008 ma il 2008 era un bel po' di anni fa quindi se noi pesiamo veramente questo dato basandoci sull'inflazione ci rendiamo conto che non è proprio così rose e fiori come la descrive la stampa per fare tutto questo ci possiamo servire di un tool molto utile che ho trovato che suggerisco insomma a chi ama smanettare che vi mostro subito ciao scusa per l'interruzione ma ho una cosa importante da dirti lasciami indovinare stai guardando questo video perché i tuoi investimenti non ti convincono e vorresti capire come migliorarli oppure hai investito da anni ma non stai ottenendo rendimenti soddisfacenti? come faccio a saperlo? tranquilli no? non ho nessun potere magico e che sono un consulente finanziario indipendente mi chiamo Maria Carrano e ho cofondato AffariMai nel 2014 ogni giorno aiuto persone proprio come te che vogliono approfondire la gestione dei propri risparmi e capire perché non stanno ottenendo i risultati che meritano se anche tu desideri essere aiutato in questo scrivimi alla mail che trovi qui sotto ed insieme capiremo come posso esserti d'aiuto adesso ti lascio alla visione del video buona continuazione questo tool si trova sul sito che si chiama avvocatoandreani.it c'è proprio un servizio per il calcolo della perdita del potere d'acquisto è fatto molto bene perché questa tabella si basa sui dati Istat quindi non dobbiamo noi stimare un tasso di inflazione ma possiamo semplicemente dire 100.000 euro nel 2008 quindi basiamoci su quello che ci dice l'articolo l'aprile 2008 visto che è l'ultimo che arriva è l'aprile 2024 lo facciamo 2008-2024 ci chiede proprio utilizza indici Istat ci dice se clicchi no devi inserire manualmente l'inflazione altrimenti te lo fallo in automatico calcoliamo e cosa ci viene fuori? questa è una cosa importante ci viene fuori che 100.000 euro del 2008 corrispondono oggi a equivalente come potere d'acquisto 76.103 euro che cosa è successo? è successo che in tutti questi anni l'inflazione si è mangiata al 31,4% significa che abbiamo perso potere d'acquisto per 23.896 euro lo spiego in maniera ancora più semplice ne avevamo 100.000 euro nel 2008 secondo questa stima potrebbero essere 1 milione, potrebbero essere 10.000 l'importante è capirci sul cambiamento questi soldi oggi hanno perso potere d'acquisto per quasi 24.000 euro gli stessi 100.000 euro del 2008 oggi valgono 76.000 euro e perché questa cosa è importante? torniamo a questo articolo questo articolo ci dice ah che bello il mercato immobiliare di Torino ha recuperato i prezzi del 2008 quindi abbiamo riassorbito la crisi non abbiamo assorbito niente perché? perché dal 2008 in poi c'è stata una cosetta che si chiama inflazione esiste una cosetta che spesso i quotidiani non conoscono o fanno finta di non conoscere che si chiama valore nominale e valore reale il valore nominale se così fosse a questo punto mi viene anche il dubbio che l'articolo della stampa sia vero ma il valore nominale prendiamolo per buono in certe zone di Torino che è una delle città che è uscita con le ossa rotte dal 2008 a livello immobiliare ma questo valore nominale ha recuperato il 2008 ma è un valore appunto nominale non è un valore reale 100.000 euro del 2008 oggi hanno perso potere d'acquisto e valgono 76.000 euro quindi non ha recuperato un bel niente perché nel frattempo i prezzi sono aumentati questo vuol dire che un signore che possedeva un immobile in centro a Torino anche nelle vie che costano 7.000 euro al metro quadro oggi possiede lo stesso immobile l'immobile vale gli stessi soldi del 2008 ma in realtà questo signore è andato incontro a un'inflazione cumulata del 31% ha perso come potere d'acquisto quasi 30.000 euro l'abbiamo visto prima ogni 100.000 euro investiti significa che se questa casa valeva un milione mettiamola così ce ne sono di immobili che valgono un milione in centro in realtà vale lo stesso un milione ma il milione del 2008 rispetto al milione di oggi in realtà quel milione oggi vale circa 700.000 euro sto facendo dei conti così a caso giusto per renderti l'idea questo è anche il concetto che bisogna esprimere quando parliamo di immobili molte volte le persone dicono ah ma la casa ha mantenuto i valori vale gli stessi soldi sì ma se vale gli stessi soldi dopo 20 anni hai perso soldi o la stessa cosa vale quando le persone vogliono investire ah ma io mi sembra che tutto sommato è andato bene ho investito 15 anni fa e adesso mi ritrovo ad avere più o meno gli stessi soldi ho anche guadagnato qualcosa bravissimo quell'applauso hai pure guadagnato qualcosa ma in realtà hai perso di valore reale perché nel frattempo c'è stata una cosa che si chiama appunto inflazione che ha eroso il potere d'acquisto dei tuoi soldi quando investi non devi investire per mantenere il valore nominale perché altrimenti stai perdendo soldi quello che spiego da anni quando investi devi superare l'inflazione è aumentare il valore reale del tuo patrimonio perché l'unico modo che hai per mantenere il tuo benessere per mantenere la tua ricchezza è per fare quello che vedi inopportuno con i tuoi soldi sia esso vivere una vecchiaia serena sia esso lasciare più soldi ai figli insomma quello che fai con i tuoi soldi lo sei tu però fondamentalmente il concetto è questo ecco per approfondire questo tema io posterò qui accanto altri contenuti in cui abbiamo parlato di immobiliare che sicuramente potrebbero interessare gli amici che hanno guardato questo video fatemi sapere nei commenti se questo nuovo format vi è piaciuto magari in futuro torneremo ad analizzare qualche notizia e proverremo nel piccolo appunto a smontarla o comunque a fare un po' di fact checking circa quello che dicono i quotidiani quando si parla di soldi a presto ciao